il discorso è quello di tempo abbiamo grande Ugo salute è lui l'artefice di tutto il gruppo è lui che promuove queste giornate ludiche all'aperto anche se il tempo non promette niente di buono vediamo dei nuovi voli stile cacciatore stile cacciatore come fanno i cacciatori è diventato un po' povero ma c'è sempre ricco di cuore eh ragazzi no 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 no